Beh, oggi devo proprio ricordarmi di fare la spesa, non ho più niente in casa. Allora, vediamo un po', stasera cosa faccio. Fettine panate! Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate, tu le fai da impazzire di bontà. Fettine panate, ho sentito parlare di fettine panate, dove sono? Mi piacciono! E va bene, non ho proprio altra scelta, per questa sera... ...d'accordo? Evviva! Ciao, Alicia! Che c'è? Perché devo soltare la cosa, sono carica di roba! Oggi ho pensato a tutto, treni che... ...el vitello, porco dio! Eh, ma voi preferite mangiare oppure sapere che un amico è contento? Sapere che un amico è contento? Ma allora siete proprio bravi, sì, sì, vi meritate una magia. Ecco, il vitello, porco dio! Evviva, Alicia! Evviva, Alicia! Sapevo che non ci avresti delusi! Porco dio! No, non ci avresti delusi! Ma...